Le buone pratiche per una mensa scolastica sostenibile di qualità sono state al centro del convegno organizzato dal comune di Civitella in Valdichiana in collaborazione con l'istituto comprensivo Martiri di Civitella, Slow Food e Comunità del Cibo della Valdichiana e Beta2 che gestisce il servizio di ristorazione con il progetto Tutti i Giorni. L'evento si è svolto nei locali della scuola Arcobaleno di Tegoleto. Le amministrazioni pubbliche devono spingere su quelle che sono le menze scolastiche, non solo come un momento di corretta educazione aumentare ma come un momento anche per andare a valorizzare quelli che sono dei prodotti importanti del nostro territorio. Tra i relatori Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, che ha sottolineato il ruolo della mensa come volano di sviluppo per produttori e territorio. Una riflessione approfondita sulla mensa come luogo di educazione oltre che di nutrimento, allora lì non soltanto si può assorbire una produzione locale, agricola, virtuosa, biologica, agroecologica, comunque rispettosa dell'ambiente. Non soltanto quello, ma la si può addirittura sollecitare. Proprio sui principi Slow Food si basa il progetto di educazione alimentare e ambientale Orto in Condotta, presente dal 2012 nell'Istituto Martiri di Civitella, proseguito negli anni anche con la coltivazione di grani antichi. Filiera corta, prodotti di qualità, sono alcuni dei punti di forza per il modello di mensa scolastica sostenuto anche dalla Comunità del Cibo della Val di Chiana. Esempi di menze come quella di Civitella sono esempi di eccellenza che vogliono supportare proprio la filiera corta.